Sarà Zafferana Etnea, in provincia di Catania, comune che fa parte del Parco dell'Etna, ad ospitare il ritiro precampionato del gelacalcio. Il paese, di poco più di 9.500 abitanti, sorge a 574 metri sul livello del mare alle pendici orientali del vulcano, includendo nel proprio territorio paesaggi di inestimabile bellezza naturalistica, dai fitti boschi alle distese di deserto lavico. Ed è proprio in quel luogo che la società biancazzurra, presieduta ad Angelo Tuccio, comincerà la stagione 2016-2017, che la vedrà ai nastri di partenza nel campionato di Serie D. Il ritiro si terrà dal 18 al 31 luglio prossimi presso l'Esperia Palace. Pochi giorni prima, il 14-15-16, è prevista la prima fase con visite mediche e test atletici che si svolgeranno a Gela. Subito dopo il ritiro precampionato, dunque dal 1 agosto, la preparazione atletica proseguirà sul terreno di gioco del Vincenzo Presti per completarsi prima dell'esordio ufficiale in Coppa Italia, subito dopo il ferragosto. La prossima settimana il club biancazzurro renderà noto il calendario degli impegni amichevoli che la squadra sosterrà per prepararsi al meglio. La compagine gelese anche quest'anno sarà guidata dal tecnico Totò Brucculeri. L'allenatore ha dimostrato grandi capacità e i risultati ne sono la testimonianza più evidente. Due panchine col Gela, due promozioni consecutive. Finora la società gelese ha tesserato un solo giocatore e che giocatore? Si tratta dell'attaccante Santino Biondo, prelevato dalla Rocca di Caprileone in eccellenza Girone B. Il suo biglietto da visita dice tutto, 22 gol nell'ultima stagione. Riconfermati aggiungiamo giustamente il centrocampista Capitano Bonaffini, il centrale di difesa Campanaro e gli attaccanti Alma, Mincica e Nassi. Il direttore sportivo Gianni Martello sta lavorando sotto traccia per far vestire ad altri la casacca biancazzurra. Ricordiamo che quest'anno in Serie D è obbligatorio avere 4 under in campo. Un giocatore nato nel 1996, due nel 1997 e uno nel 1998.